Il prossimo brano, Aston Pantaleo Piazzolla, è stato un musicista, compositore e arraggiatore argentino. Il formatore del tango e strumentista d'avanguardia, è considerato il musicista più importante del suo paese e in generale tra i musicisti più importanti del XX secolo. Per i suoi intrecci, per le sue sperimentazioni con le quali metteva insieme il tango e il jazz, fu oggetto di pesanti critiche, rivolte dai puristi del genere. Tanto che essi lo definirono l'assassino del tango, cioè l'assassino del tango. Questa sera, dalla sua rumenevole repertorio, ascoltarete due brani, Oblivio e Libertango. Grazie. 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 Grazie.